La situazione è diventata questa e qui ci manca ancora tutta la parte legata al fatturato, questi sono i costi fissi della nostra start up che poi negli anni ci si augura diventi un'azienda, quindi voi già sapete che nel primo anno vi servono 300 mila euro perché nel primo anno è difficile che si riesce a fatturare qualcosa se non pochi spiccioli e questo senza aver fatto altre considerazioni, ma di base già servono 300 mila euro nel primo anno. Poi vedete che la struttura cresce, in particolare cresce molto la parte di sviluppo e insomma cominciano a volerci un po' di soldi in più, a mano che si va avanti. Allora, fino adesso abbiamo ragionato di personale, adesso vediamo quali sono gli altri costi che abbiamo. Abbiamo detto che se abbiamo una piattaforma web tipicamente abbiamo un tema di marketing che è rappresentato da una persona che deve andare in giro con la valigetta a vendere il prodotto e da strategie di web marketing, quindi prodotti da comprare per fare in modo che il nostro brand sia riconosciuto, il nostro prodotto sia, come dire, che qualcuno sappia che esistiamo, che arrivi sulla nostra piattaforma e faccia uso del nostro prodotto o dei nostri servizi. Bisogna fare web marketing. Quali sono gli strumenti web marketing? Qualcuno di voi qui dentro sicuramente lo sa meglio di me. Fate sentire la vostra voce. AdWords, Facebook. Che cos'è AdWords? È un sistema di marketing proposto da Google con il quale possiamo, investendo non tantissimi soldi, dipende, investendo soldi, possiamo andare a pubblicizzare direttamente su Google che è uno dei motori di ricerca più utilizzati al mondo, il nostro prodotto. Tanto per capirci subito facciamo un esempio. Dove è AdWords? Quindi se voi volete che il vostro annuncio vada lì rosa, oppure possiamo farci proporre al lato, se non ci sono dei prodotti, dipende dalla tipologia. Infatti speravo che uscisse qua, così dovrebbe uscire. Ecco qua. Addirittura se stiamo comprando un prodotto viene fuori l'immagine, riprendendo. Voi c'è scassato, dici una cosa che devo scrivere qua, avanti. Samsung S3 S3. Eccolo qua, ci voleva tanto. E ti viene fuori chi è che lo stava. Ok? Avete visto AdWords? Vai là. Per stare nello spazio rosa o nello spazio lì a fianco, si paga. Molto, certo. Si paga sempre uguale? No. Come funziona il meccanismo? L'asta flingh. Dite qualcosa, su. Lo sapete meglio di me? Non lo fate, dicami che non lo so. Di fatto bisogna scendere del dettaglio delle keywords relative al prodotto che vuole promuovere. E a seconda di quanto queste keywords sono più o meno generiche, se ci sono altri che vogliono comparire con le stesse keywords, chi parla di più per comparire a prima? Quindi cosa ci fosse un'asta automatica che si deve da Google? Certo, tutto il meccanismo delle aste Google. Funziona così. Sì, sì. Altri strumenti? No, la pubblicità su Facebook. È similare. Come funziona? È la stessa cosa ma su Facebook. Su Facebook, esatto. Altro? Qualcuno che fa marketing qui dentro ci sarà, no? Almeno lo vuol fare. Ce l'ha nei piani? Posso giocare la porta? Sì. Magari. Ma poi siapre. per chi non ha soldi però è una cosa su cui è difficile fondare una campagna di marketing per esempio Calabrese per esempio è Calabrese questa start up quella non è una voce di costo evidentemente non va messa a business plan ma va messa nel lavoro del community manager per avere un po' di evidenza però lì ecco nel caso condomani per esempio software per la gestione dei condomini ha senso comparire sulle pagine web di siti specializzati in quel settore e quindi lì è diciamo genericamente o meglio è una pubblicità più mirata ma chiamiamolo web ad pubblicità su siti web specifici ecco penso agli abruzzesi da sopra che se vogliono far conoscere la loro start up difficilmente vanno a fare pubblicità su un portale di cucina visto che si rivolgono a musicisti magari vanno a mettere un banner su un portale specifico sapete cos'è Mosaicun? mai sentite? la faccio vedere perché è una cosa carina è una start up in cui abbiamo investito noi The Viral Media Company che fanno questi qua? hanno messo diciamo così al libro paga tutti o quasi tutti i blogger italiani blogger siti web insomma quella che viene chiamata la coda lunga del web se voi guardate la distribuzione sul web degli utenti mese per sito avete più o meno una gaussiana dove la campana è fatta grosso modo da Repubblica Corriere la Sera Gazzetta dello Sport non lo so manco io quant'altro e le code che sono molto molto lunghe sono fatte dai blogger in generale da vari siti di informazione o specialistici per prodotto Mosaicun è andato da questi qua e gli ho detto a tutti quanti sono circa quelli che sono nel loro portafoglio sono due o tre mila e gli ho detto sentimi lasciami uno spazio sul tuo sito uno spazio per metterci un video che è a mia disposizione cioè decido io cosa e quando mettere su quel sito quindi mettiamo il blogger di moda dice sul tuo blog c'è una finestra per metterci un video che io decido di mettere quindi io decido che video mettere e decido anche quando metterlo unico limite non hanno messo questo tipo di accordo non l'hanno stretto con Siti Porno è l'unica cosa che hanno lasciato da parte non è banale perché come potete immaginare Siti Porno rappresenta una bella fetta il web però per una questione di loro profilo immagine hanno preferito non farlo che cosa fanno allora vanno dal brand il brand ha bisogno di farsi pubblicità loro vanno dal brand e gli dicono senti tu hai due possibilità per farti pubblicità prendi il tuo video te lo fai fare oppure te lo faccio io se vuoi ma diciamo che ce l'hai il tuo video e lo metti su Repubblica lo metti sul Corriere ovvero vai da un'agenzia pubblicitaria questa agenzia pubblicitaria compra lo spazio web sul sito della Repubblica piuttosto che sul sito del Corriere ti costa una paccata di soldi che non finisce più e vai automaticamente su un milione di utenti che sono quelli che leggono Repubblica Online per esempio sai che ti dico io diciamo io ti faccio arrivare lo stesso su un milione di utenti però ti faccio scegliere su che tipo di utenti andare allora tu che so sei carpisa borse quindi vuoi andare per esempio a comunicare il tuo il tuo messaggio non a quelli che magari suonano musica o a quelli che giocano a pallone ma alle ragazzine di età compresa fra i 16 e i 25 anni quindi tipicamente quelle che possono essere appassionate di moda e che leggono i blog di moda e allora Mosecun dice carpisa dammi il tuo video oppure te lo faccio io e io te lo sparo su 150 siti di moda blog di moda ti faccio raggiungere lo stesso un milione di persone che sono i lettori di quei 150 siti ma invece di farti spendere una paccata di soldi intera che è quella che spendi per andare su Repubblica ti faccio spendere la metà quindi pubblicità targettizzata come si dice e che costa meno insomma ogni tanto mi piace anche farvi vedere qualcosa che realmente fanno i fondi ed è quello che per esempio si può immaginare quando parliamo di web advertising voglio andare a fare pubblicità sui siti web non la faccio così a caso ma vado da un operatore del mercato una campagna su fatta con una campagna pubblicitaria fatta con Mosaikun costa diciamo da un minimo di 50 mila euro al massimo anche di un milione dipende dalle dimensioni della campagna a click through quindi per ogni click tipo il 70% 80% va a blog e il 20% a Mosaikun una cosa del genere non mi ricordo precisamente non mi ricordo quale è la distribuzione comunque è diviso tra Mosaikun e il blog così il blog non si deve preoccupare di procurarsi la pubblicità e Mosaikun sa che può andare su quella pagina quando ci vuole ok sul tema della pubblicità penso che più o meno l'abbiamo detta c'è mettere anche questa se sapete cos'è se non sapete il direct email marketing cioè quelle mail che vi spammano la casella di posta in continuazione perché avete fatto l'errore una volta di registrarvi e di profilarvi su qualche sito e quel sito quel vostro profilo l'ha venduto ad altri 300 milioni di siti che l'hanno venduto ad altri 300 milioni di siti e voi siete fottuti per tutta la vita io sono diciamo uno di quelli e però questo significa che avete dato a qualcuno uno strumento per farsi pubblicità con la vostra casella di posta elettronica voi è un servizio che potete comprare ora tutta questa roba deve avere un senso per voi cioè voi spendete soldi per fare queste campagne poi vediamo quanto dobbiamo spendere ma questa roba deve avere un senso per voi cioè si deve tradurre in utenti ora immaginiamo che io spenda per lanciare questa cosa faccia un primo test con 10 mila euro che ci faccio con questi 10 mila euro di AdWords compro compro qualche keyword prego accomodati compro qualche keyword e quando dove stava no questo è Dropbox l'avevo messo qua forse ecco compro qualche keyword e quando mi va bene riesco a comparire su questa pagina ma a me che mi interessa comparire su questa pagina mi interessa perché qualcuno va qua se io fossi Samsung o meglio se io fossi allo store fa click e va su allo store cioè quello è il senso del mio investimento pubblicitario io ho speso soldi perché voglio che qualcuno veda la pubblicità di allo store e ci faccia click sopra io che sono allo store spendo dei soldi e mi aspetto che quanta più gente possibile faccia click e vada lì il rapporto fra quindi la prima cosa che devo sapere è spendendo quei soldi quante impression come si dice ottengo cioè quante volte su questa pagina si visualizza il mio messaggio pubblicitario non so quante esperienze abbiate io ne ho poca ma io penso che con 10.000 euro questa lo ricopro sotto impressions è la prima cosa quante impressions posso avere con 10.000 euro qualcuno ne ha un'idea qualcuno ha mai fatto una campagna qualcuno ha mai fatto una campagna di AdWords never nobody tu tipo 500 euro no con 400 quanta impression hai avuto non ricordo soltanto al naso il problema non era tanto la conversione è quello poi il momento successivo non ricordo male qualche al migliaio non siamo arrivati al migliaio anche la prima volta che facevamo quindi la gestione delle parole chiave era un po' attentativa diciamo che facciamo un euro per impression che forse è troppo però non è veramente troppo diciamo 10.000 sono 10.000 facciamo 100.000 impression vabbè andrebbe fatta un po' meglio questa cosa però qua non è più impression ma è CTR cioè che cos'è CTR? CTR vuol dire click through rate cioè quanta gente quando vede allora io ho speso 10.000 euro 10.000 euro vuol dire che 100.000 volte quando qualcuno cerca Samsung su Google gli esce il mio banner pubblicitario qui ok? stiamo inventando io non lo so se con 10.000 euro mi esce veramente 100.000 volte non è impossibile ma quanta gente poi fa click su questo banner quello è il click through rate cioè quante volte uno fa click e gli esce fuori e mi va a finire mi rimbalza sul sito va a finire qua questa questa metrica come la definiscono i clienti di web marketing è una delle cose più difficili da prevedere in generale io sono per una grossa prudenza su questo numero non lo so tu hai avuto un minimo di riscontro su queste sulle metriche di questa cosa no cioè sono un po' di tempo fa quindi ho avuto per dire dei numeri per ieri comunque che possono arrivare qualcuno si è mai posto il problema di capire quanto può essere il CTL per una campagna web marketing su Google Ads io butto un numero zero è un numero forte questo abbastanza alto ma chi è questo? un IP che vuol dire questo 2% vuol dire che senti facciamo una cosa comoda eliminiamo tutto il resto facciamo finta che abbiamo solo AdWords tanto per quello che ci interessa va bene lo stesso impression questo è gli euro spesi critical rate 2% vuol dire visite al nostro sito il 2% delle 100.000 impression è difficile avere un'idea precisa in anticipo di queste cose le metriche è la tipica cosa che si aggiusta passo dopo passo cioè bisogna fare i test quelli che gli americani chiamano A-B-test Giovanotto tu da sopra ti ricordi quando è venuto al TechCrunch quella di Google che faceva che ha parlato degli A-B-test fatti per la campagna di Obama campagna fatta tutta con Dem direct email marketing tutto con le mail in quel caso è una cosa bestiale perché loro si sono accorti che cambiando una frase di saluto nella mail che mandavano a tutti aumentava il fundraising di milioni di dollari pensate stavamo parlando del fundraising per Obama però insomma mutandis mutandis su scala queste cose hanno un senso ok arrivano 2000 visite al nostro sito e ma che ci abbiamo fatto allora una prima cosa esatto da vedere è percentuale registrati allora questo che stiamo costruendo si chiama il funnel del marketing cioè partendo dai soldi che spendiamo per fare la campagna pubblicitaria alla fine cioè tutto il percorso perché questi soldi si trasformino in fatturato ogni passaggio di scala si chiama tasso di conversione è il conversion rate da un passaggio a quello successivo io lo so abbastanza semplificando può essere anche molto più complesso perché per esempio in un caso di una piattaforma web noi dobbiamo sapere quante sono le visite quanti di questi tornano diciamo per il momento semplifichiamo diciamo che quanti di quelli che arrivano al sito poi si registrano immaginiamo che se abbiamo fatto gente che ha già perso tempo a cliccare è andata sulla pagina almeno un 10% si regista quindi questo poi appunto dipende molto dal no no qua parliamo per il momento il regista quello che si registra è quello che per il momento ti ha dato ti ha dato i suoi dati ok si è profilato e ora quello te lo devi lavorare e devi cercare di spremelo e di vendere qualcosa quindi gli utenti scusate no che è sbagliato il premio di tasto ok gli utenti registrati saranno 200 lo so che l'avevate già capito però volevo vedere se tornavo a quanti di questi riusciamo a vendere mettiamo che noi dobbiamo vendere a loro non è detto perché nel caso di Splashmood per esempio potrebbero essere quelli che si scaricano l'app tutta sta manfrina che ho fatto con AdWords con Google AdWords in realtà nel loro caso probabilmente dovevo farlo con una campagna di mobile marketing quindi di marketing fatto non sul web ma fatto sul telefonino che ti portava alla fine a scaricarti l'app non lo so nemmeno quali devono essere i loro tool di marketing non voglio ragionare su questo però gli strumenti per far conoscere il prodotto alla gente sono tanti l'essenziale è che la gente alla fine arrivi sul posto dove ti deve dare se stesso che se parliamo di un'app mobile è il play store o l'app store cioè deve andare lì e nella pagina di ricerca deve mettere il nome della tua app se parliamo di un sito dove è necessario che l'utente si profili per poi comprare qualcosa stiamo parlando appunto del sito web mettiamo smartphone per esempio dove l'utente deve andare lì e deve comprare basi musicali lì è proprio il caso tuo devi attirare gente che si registra e che poi acquista acquista le basi musicali quanti di questi utenti o mi sbaglio adesso siamo lì il passo successivo quanti di questi utenti che si registrano diventano acquirenti comprano cacchio uno che è andato lì ha perso tempo a registrarsi ti ha dato si è profilato è un musicista è un appassionato l'ha fatto si è registrato per vedere un po' sta roba come funzionava se è veramente quello che cercava e lo convince probabilmente compra quindi qua mi sentirei di dire che la percentuale è interessante come vedete le metriche tendenzialmente crescono i tassi di conversione tendenzialmente crescono al mano che si arriva ad acquistare il prodotto non è sempre vero però è logico che voi qui state andando sulla grande massa e a mano a mano che l'imbuto si stringe state catturando sempre più gente che è interessata al vostro prodotto fino a quelli che comprano quanto sono gli acquirenti? sono 40 quanto spendono? questi signori qui magari noi abbiamo un listino prezzi e sappiamo che quegli acquirenti comprano uno, due, tre prodotti ci facciamo una bella tabellina nella quale mettiamo il nostro listino prezzi con i prodotti e il numero di prodotti che ciascun acquirente può acquistare prendiamo prendiamo quella che è la spesa media di ciascun acquirente la dividiamo per il numero di acquirenti che abbiamo e otteniamo questo l'ARPU è average revenue per unit è una cosa che fanno molto quelle compagnie telefoniche per user scusa cioè quanto il singolo utente spende del vostro servizio l'ARPU è un dato che si calcola ma adesso noi per semplicità ce lo immaginiamo immaginiamo che il singolo vostro utente valga 30 euro ho scoperto una cosa molto simpatica nel mondo dei videogame non so se voi avete più o meno idea di come funziona la monetizzazione dei videogiochi ma tipicamente esistono due grandi famiglie le piattaforme e web e mobile i modi di vendere tipicamente sono tre allora o sei Sony e vendi attraverso la playstation scusate ho detto una sciocchezza o ci sono i giochi per piattaforma che tu lo compri fisicamente o lo scarichi ma quindi paghi quando compri oppure ci sono i giochi per mobile o per web ma quelli più tipici faccio grandi macro categorie no i giochi per mobile tu scarichi l'app o la paghi quando la scarichi e poi giochi quanto vuoi tu oppure la scarichi gratis ma poi per andare avanti ed essere più veloce o più bravo dei tuoi dei tuoi nemici devi comprare qualcosa mentre giochi per esempio un potenziamento si chiama in app purchase cioè acquisto mentre giochi e quel tipo di modello di revenue si chiama freemium nel senso che è free all'inizio e diventa premium cioè si paga andando avanti in questo modello quello del freemium dove cioè tu scarichi il gioco gratuitamente ma poi se vuoi avanzare e avere dei potenziamenti devi pagare esiste una categoria di persone che gli sviluppatori di videogiochi chiamano le balene io l'ho scoperto di recente ma è una cosa che mi ha fatto sorridere le balene sono quelle che quando giocano al tuo gioco spendono un sacco di soldi per comprare potenziamento e c'è gente che arriva a spendere tranquillamente 100-150 euro di potenziamenti che se ci pensate è il doppio del costo 150 euro è il doppio del costo di un videogame AAA per Xbox cioè Assassin's Creed che è appena uscito che diciamo il gioco più a forse vabbè GTA era quello più atteso ma insomma uno dei giochi più attesi del momento costa 70-80 euro c'è una balena che arriva a spendere 150 euro per un casual game del cattio scaricato da app è un mondo strano veramente quello in cui viviamo però quelli hanno un ARPU pazzesco io ho un ARPU zero perché io se gioco non gioco col cattio che spendo magari c'è gente che fa questo è una questione di passione se ti piace giocare e tu vedi che per diventare più forte devi fare questo paghi no se ti piace scommettere se ti piace giocare allora se immaginiamo che l'ARPU è 30 euro i ricavi che io ottengo da questa cosa sono questi 1200 euro ecco l'efficacia dell'investimento in marketing magari fosse così se io invece di 10 spendo 100.000 scusate non dovevo scriverlo qui ok ah no questo era battuto evidentemente aumenta se ne spendo 150 meglio mi sento non è un tasso di conversione molto brillante questo come potete vedere perché io spendo 150 e ottengo e ottengo quelle vedete la verità è che se io spendo 150.000 euro le impression le abbiamo toppate completamente secondo me andiamo in questo ordine direi no troppo ah no volevo scrivere per 100 largo circa una cosa del genere adesso stiamo sparando numeri completamente a cacchio però questa cosa più o meno il processo da seguire è grosso modo questo qui spendo 150.000 euro di marketing compro un numero di impression moltiplicato per 100 volte ai miei costi quindi mi compare il famoso banner compro 150 con 150.000 euro di marketing compro 15 milioni un milione e mezzo di queste no 15 milioni di queste robe il 2% di quelle impression c'è gente che clicca sopra quindi avrò 300.000 visite al mio sito il 10% di quelle che visita si registra 30.000 persone il 20% di quelli che si registra compra 6.000 persone spendono 30 euro ciascuno in media io incasso 180 se ho un ARP un po' più ricco facciamolo girare un posto business plan comincio a guadagnare qualcosa in più ma non è che io spendo 150.000 euro al mese anche perché questa roba mi produce risultati che durano perché ho catturato gente allora se spendo 150.000 euro tutta sta roba questi 300.000 euro mediamente me le ritrovo anche il mese dopo perché l'utente si è registrato già e uno che compra non mi serve fare ancora un'altra volta 150.000 impression cioè non lo devo più impressionare non mi deve più fare clic c'è lo mio a meno di una variabile che è questa qui il churn cioè la gente che si rompe le scatole se ne va il tasso di abbandono l'abbandono mediamente può essere una cosa del genere scusate gente che scappa potrebbe essere il 20% per cui invece di avere 300.000 c'erro 300.000 aspettate per 1 meno il churn 240 come faccio a tenere costante 300.000 devo abbassare il churn allora magari adesso la semplifico questa poi va strutturata il funnel va strutturato ma magari io so che se voglio tenere il churn prossimo a zero quindi se voglio evitare che la gente mi abbandona devo continuare a spendere non 150.000 ma per esempio 30.000 ogni mese se per un anno intero continuo a spendere 30.000 ogni mese il churn invece di essere il 20 va a 2 non è matematica io sto facendo un film però il concetto che vi voglio trasmettere è questo qui e probabilmente almeno una volta all'anno ma io penso anche una volta ogni 6 mesi ci devo dare una botta importante magari qua ce ne devo mettere altri 150 cioè voglio dire devo mantenere viva l'attenzione se mi accorgo che sta scemando devo investire di più in questa attività è chiave l'areportistica seguire le metriche cioè fare attenzione a come stanno girando le metriche del mio sito le metriche sono queste qua cioè quanta gente visita il sito come quanto è il tasso di abbandono quanto è l'ARPU si mantiene costante o si abbassa tutte le volte che vedo che le metriche si abbassano io prendo il Viagra ci devo mettere i soldi dentro per farli alzare funziona esattamente come nei rapporti fra uno e donna cioè poco da fa quando scende bisogna metterci i soldi non basta se bastasse questo diciamo il mondo sarebbe felice ancora per molti anni però l'abbiamo semplificata molto ma concettualmente è questo vada come fai a misurare il tasso di abbandono in caso del genere tu vedi hai tutti i tuoi utenti sai ogni mese tutto quello che spendono qui abbiamo fatto un caso in cui hai utenti che fanno spesa ricorrente Sky ma chiaramente potresti invece avere il caso di utenti che spendono tipo quando vendi un videogame spendono una o due volte al massimo per cui devi fartene nuovi utenti allora mettiamo il caso Sky che è quello più facile da discutere il caso Sky loro lo vedono perfettamente vedono quanta gente stacca l'abbonamento allora sanno in questo momento devono fare campagna marketing perché perché si stanno abbassando le metriche con un gioco per esempio se vedono che l'ARPU si abbassa cioè i soldi che incassano diviso il numero di utenti attivi questo rapporto si abbassa o devono aumentare il numero di utenti attivi o meglio devono aumentare il numero di utenti attivi e in questo caso come lo fanno tipicamente nei videogiochi due cose pubblicità e nuove funzioni nuovi personaggi nuove strategie di gioco fino a fare un nuovo videogioco cioè questo vuol dire execution stare dietro a tutto quello che succede e migliorarlo sempre qualche volta spendendo soldi una cosa che è molto importante in tutto il mondo mobile è la customer care o meglio mondo mobile e mondo web è un tema che sta diventando crescente per tutte le aziende che in qualche modo hanno una presenza sul web voi attraverso i social network voi attraverso le piattaforme e gli store mobile voi avete mai usato music match vabbè a parte quello da sopra che immagino in generale sapete cos'è shazam la sanno tutti music match è più o meno la versione italiana di shazam perché è stata sviluppata da un italiano esatto max ciocciola si chiama che ha fatto sta cosa che è molto carina perché oltre a riconoscere il pezzo l'ha fatto prima di shazam oltre a riconoscere il pezzo vi da il karaoke vi da i testi le lyrics in tempo reale e poi è anche un'app per sentire musica sul telefonino music match lui ha fatto questo discorso l'abbiamo sentito una volta penso che anche voi di smartphone avete sentito parlare ciocio da altra e crunch scusa smartphone giallo no smartphone è napugliese è un'altra storia e lui diceva noi abbiamo non mi ricordo quante persone che fanno solo esclusivamente customer care cioè stanno a vedere tutti i commenti della gente sullo store e rispondono e trasmettono l'input alla produzione ve ne dico un'altra io ho acquistato un periodo di prova di un di un sistema di web di comunicazione video web di web conferencing l'ho tenuto per una settimana poi il firewall del mio ufficio non mi ha più consentito di usarlo e quindi ho abbandonato l'abbonamento è un abbonamento mensile il giorno stesso che io ho abbandonato l'abbonamento mi hanno scritto loro cioè no scusa perché te ne sei andato e non era un motore era un cristiano perché io ho risposto perché me ne sono andato e lui mi ha risposto subito ma tipo cinque minuti dice chiamami che secondo me risolviamo il problema io non l'ho chiamato perché sapevo già che il problema non si poteva risolvere però questo vuol dire attenzione a tutto quello ha guardato metriche ha visto che c'era uno che abbandonava e immediatamente ha reagito quindi deve avere la tua piattaforma deve ragionare anche per eccezioni cioè ti deve avvertire deve avere un alert quando qualcosa non sta andando come deve andare tutto sto papillo per dirvi che stiamo provando a costruire fatturato l'abbiamo semplificato un po' qui adesso io ve lo spingo un po' abbiamo detto che ogni 6 mesi ci diamo una botta con estrema semplicità stiamo immaginando che la vostra il vostro fatturato funzioni così il fatturato cala poco vedete da 300 scende fino a 270 mila euro fino a quando spendo soltanto 30 mila euro al mese poi un bel mese ne spendo 150 e ritorna ad essere questo con qualcosa in più perché cazzo ho già ho già costruito un brand quindi il fatturato mi comincia a funzionare poi però ricomincio a spendere poco e quindi fino a quando non ci do un'altra bella botta il fatturato mi ricomincia a calare e sta cosa va avanti però vedete come funziona la curva dei miei ricavi la faccio vedere fa schifo sta cosa non la prendete per come dire per una cosa veramente seria però il concetto è questo cioè tendenzialmente io cresco e cresco grazie agli investimenti in marketing che ho fatto però so che ogni tanto tendo a che tendenzialmente se non tengo vivo con l'investimento in marketing la roba cala e allora devo dare la botta e lì trum e riparte e riparte il lazzo e funziona così con il web marketing non una cosa schifosa come questa ma ecco volendola scusate volendola fare un po' più 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 tosta invece del 10% così vediamo anche una misura di che significa scalare forse abbassiamo un po' l'arco dai 25 è troppo ciao 20 cioè questo è pazzo sta giocando no giusto complimento per l'attenzione è più umano ora io qui ho immaginato che la parte il fatturato mi venisse soltanto poi dopo andiamo a vedere anche il business plan quello che era ho immaginato che il fatturato mi venisse soltanto dal web marketing e per semplicità ho immaginato solo AdWords ma insomma vale per tutte le forme di web marketing in realtà ecco lei citava Condomani che cos'è Condomani Condomani è un software un software per la gestione dei condomini che c'è dentro pure l'ambiente social ve lo faccio vedere così sappiamo di che stiamo parlando allora che cosa fa questa roba io compro una licenza io sono amministratore di condominio compro una licenza Condomani e me la in effetti non la installo su pc perché è tutto via web quindi avrò delle credenziali per accesso alla piattaforma da lì potrò gestire il mio condominio tutto cioè tutto quello che normalmente serve a un amministratore di condominio per gestire il condominio ce l'ho online in più ho l'ambiente social cioè c'è la bacheca condominiale virtuale dove io amministratore posso mettere gli avvisi mandare le mail a tutti i condomini i condomini le reggono per chi gli arriva la mail sul telefonino possono andare sulla bacheca possono mettere essi stessi avvisi sulla bacheca rivolte all'amministratore o ad altri condomini terzo asse i fornitori del condominio hanno uno spazio dedicato che pagano e questo fa entrare soldi nel condominio è una pubblicità che si fanno tutta sta roba funziona molto bene costa meno della licenza di una licenza software di quelle mediamente diffuse nel mondo del condominio genera ricavi per il condominio e udite udite la cosa più bella abbassa la litigiosità perché la gente scarica in bacheca invece di scaricare in assemblea o di litigare così funziona veramente funziona sta roba è bellino allora condomani che deve fare condomani qua proprio ce l'avete proprio preciso condomani deve acchiappare gli utenti e li deve portare sulla piattaforma e questi utenti devono essere sia condomini sia amministratori i condomini devono sapere che esiste questa cosa perché poi devono andare a rompere le scatole all'amministratore gli devono dire caro amministratore comprati questa licenza gli amministratori devono essere beccati da condomani perché sappiano che esiste si convincano che è roba buona e comprimo la licenza gli amministratori li puoi beccare in tre modi perché fai pubblicità web tipo quello che abbiamo fatto il funnel che abbiamo fatto noi quindi fai pubblicità web attraverso una serie di tassi di conversione li porti sul tuo sito a registrarsi a profilarsi cominciano free e poi si comprano la licenza oppure viralmente io sono amministratori di condominio che ho comprato la licenza condomani chiamo il mio amico amministratori di condominio e dico guarda questa cosa è migliore di quelle che stai usando tu compra di questa e abbandona quella che avevi oppure mettono in campo una rete di agenti cioè gente che va o per telefono chiama tutti quanti oppure va con la valigetta e va dagli amministratori gli racconta il prodotto e glielo vende allora immaginiamo che la nostra sia condomani per cui io ciò che anche i commerciali e l'amministratore delegato che è uno dei commerciali mi vanno a vendere e allora non gli do più soltanto a questi il la percentuale scusatemi i soldi per pagare lo stipendio il costo del conto del supermercato gli do anche una percentuale sul fatturato fatturato che è generato da una combinazione dell'attività del commerciale e del web marketing andiamo a prendere questo fatturato immaginiamo per semplicità che ci sia una sola linea di business il fatturato è quello che abbiamo visto giù questo il fatturato di ogni mese lo copio e lo porto fino in fondo vabbè questa è una start up da film ho fatto 3 milioni di fatturato già al primo anno abbassiamo qualche metrica non funziona questo business plan se qualcuno mi viene e mi porta un business plan del genere mi metta a leader non è possibile lavoriamo sulle metriche l'ARPU è alto forse il numero di impression se torniamo al famoso moltiplicato per 10 vediamo che succede al fatturato troppo poco diciamo per 50 50 potrebbe avere un senso allora guardate vi voglio finire a far vedere una cosa magicamente questa riga e questa riga questo è il costo dell'amministratore delegato e dei commerciali che è legato al fatturato sviluppato dall'azienda prima non me l'avevo fatto vedere l'ho aggiustato nell'intervallo è la provvigione è la provvigione punto andiamo un attimo a vedere che è successo al nostro business plan comincia a cambiare qualcosa è ancora un film quel 50 è decisamente troppo oppure magari abbassiamo la percentuale degli utenti registrati è ancora troppo abbassiamo la percentuale degli acquirenti ah c'è una cosa scusate torno un attimo qui non abbiamo sommato i costi al marketing sommiamoli e portiamoli al conto economico faccio un attimo un'operazione io voi vi potete anche distrare grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Perchè no? Ah, è 39 questo già. Ritorniamo a dove eravamo. Eccolo. Questo è un business plan umano. Allora, ritardo le metriche. Il 2% di click through rate, il 10% si registra, non ho il 20% di acquirenti, ma il 10% di acquirenti, un arpu di 40 euro e un churno del 2%. Con queste metriche il piano gira. Che gira? Lo vedete da qua. Questa, l'ho chiamata altri costi esterni, ma per semplicità è solo il marketing. In questa riga altri costi esterni ci dovremmo mettere anche gli affitti, servizi che comprate all'esterno invece di fare all'interno. Per semplicità diamo che è soltanto il marketing. E, ok, questi sono tutti i costi del vostro primo anno. Assommano qui sotto, vedete, a 900 mila euro. Se non fate una lira di fatturato, alla fine dell'anno vi servono 900 mila euro. Se con questi costi riuscite a generare fatturato, abbiamo immaginato con tutti quei tassi di conversione che abbiamo 753 mila euro di fatturato, ne abbasso un altro po'. Deve esserci un po' più di sofferenza. È già più verosimile. Se fatessi 600 mila euro di fatturato, arrivate a un margine operativo lordo, una differenza tra ricavi e costi monetari di 275 mila euro. State in perdita di 275 mila euro. Di più nell'anno successivo, perché state investendo sullo sviluppo, cioè sta cosa comunque vedete che prende, ma deve diventare una cosa più robusta. Vedete il passaggio da qui a qui costa caro. Dopodiché comincia a produrre utili, dopodiché comincia a scalare. 32 abbiamo cominciato a costruire, dopo faremo qualche ragionamento sulla logica di quello che abbiamo visto, un'ora di intervallo, e oggi vi sfondo di logica, non più di costruzione del modello. Buon divertimento. Dici. No, non c'è, non c'è qui. No, io per semplicità traduco un attimo quello che sta dicendo lei. Chiudo un attimo il punto che sta dicendo lei. Noi abbiamo fatto un funnel che parte dal web marketing e porta al fatturato. In realtà il funnel va integrato con quello che fanno i commerciali, cioè se io pago i commerciali non è che mi diventano solo costi, mi devono diventare anche fatturato. e io questo non l'ho reso evidente nel modello. l'unica cosa che ho reso evidente è stato il costo dei commerciali, e ho fatto finta che il fatturato provenisse sia dal marketing che dai commerciali. magari questa cosa la integro nell'intervallo, così non faccio perdere tempo a voi, e ve la dico dopo, dai. La faccio vedere dopo. Se ne è prima da due. Ma non è vero, diciamo, un postato di qualche mese? Anche? Io adesso sto facendo tutti gli agenti, diciamo, di semplicità per stringere, però è vero. Nel momento in cui puoi aggiustare le metri che fa dire così non è credibile, adesso mi si diventa più credibile, immagino che se si guardano più nei valori di costura, perché si riconoscevano l'arco dei quattro anni, e alla fine hai detto che è più o meno credibile quando sei arrivato intorno a 1.2008 per gli ultimi due anni. No, quello più o meno... No, io guardo questa diga qui. Ah, ok. Comunque? Comunque, in realtà, non so se sono magari l'esempio, se io ho potuto scegliere gli istituzioni, però di fatto per cifre maggiori di quelle che ci sono detto adesso ci sono statunzionali, alcuni di quei colleghi mi hanno detto se è così mi apre una miseria, letteralmente. Quindi, Riccata, anche perché questa volta non ho andato abbastanza generale, ve lo chiede effettivamente da quel punto di vista come bisogna regolarsi per comprendere la cosa che sta funzionando. Altaim era aggiornato. No. No, domanda pertinente, ma al termine della giornata. Cioè, io voglio prima fare un modellino che gira e su cui possiamo giocare e poi facciamo tutti i ragionamenti. Buon appetito. Grazie. Grazie.